Ma dove sono? Che cos'è tutta questa cosa? Su cosa sono? Non capisco, questo è una sorta di pianeta che si è elevato in aria, è assurda sta cosa, proprio dalla terra, sembra proprio che si sia staccato dalla sotto. Il sole è proprio lì, ah, è proprio forte comunque. Quindi dovrei iniziare perché è già mattina e non possiamo assolutamente perdere altro tempo. Guardate che spawnano i Rainbow Friends proprio su questo pianeta, tecnicamente sotto questo pianeta possiamo prendere dei materiali, non possiamo scendere dal pianeta, eh. Perché sennò abbiamo perso e ovviamente i Rainbow Friends ci uccidono, ovviamente, questo manco a dirlo. Quindi adesso, ok, prima cosa, possiamo vedere che ci sono dei blocchi di ferro, ma non è che tutto blocchi di ferro. Ok, abbiamo già vinto, scusatemi, ma cos'è, raga, diamanti, ma proprio blocchi, che bello, dammi subito. Allora, prima di tutto devo prendere della pietra, perché ovviamente devo scavare per fare il piccone e per poter poi prendere i diamanti e il ferro. Posso direttamente prendere il ferro così, vedete, è bello. Adesso lo prendo tutto quanto, me lo intasco e tecnicamente ne ho già un sacco. Adesso li metto qua e sono trasformati in 36 lingotti di ferro. Adesso probabilmente siamo a 18, adesso siamo a... fate voi il calcolo, insomma. Sentite, non aspettatevi troppo, perché io adesso far matematica in questo momento non riesco proprio. Allora, ho preso 9 blocchi, beh, direi che bastano, perché vuol dire che sono tanti, 81 tecnicamente. Giusto? Vabbè, facciamo finta di sì. Non dobbiamo fare altro che aspettare la notte, l'unico problema che sto riscontrando ora effettivamente è che io qua non ho nessun cibo. Ok, ho lasciato aperto giusto per poter entrare, magari faccio così, così posso chiudere ancora di più, o le, e ora posso entrare. È perfetto. E quindi adesso dobbiamo solamente aspettare. Oddio, che paura, che paura. Raga, sono qua, che schifo. Sono riuscito a salire sopra l'albero, ho fatto forse meglio, ho fatto meglio. Allora, sono green e red, infatti è già notte, il sole stava tramontando, quindi tecnicamente per il gioco dovrebbe essere già notte. E quindi, io ora come caspita faccio, perché questi qua non sembrano morire. Ah, se vedete sopra la vita? Oh, no, 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 no. Dentro, dentro, dentro. Ok, non possono farmi niente, però magari adesso cerchiamo di vincere. Ah! Oddio Che schifo Vai via Red Via Beh almeno stanno Sono in una bella trappola O comunque se mi Ok ho vinto Perfetto Bene Raga no Aspetta Questo è un problema Questi qua rispondono No No Ok sono rispondati Come vedete Sono di nuovo lì Scrivetemi voi se ho vinto Ovviamente nei commenti E ci vediamo al prossimo video Ciao